Come diceva Arno, questa è stata la locale. Visita Lampo a Bolzano del sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomeglia, le prese come noto in questi giorni con la riforma RAI. Giacomeglia ha incontrato a Palazzo Vidman il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compacera. È stato presentato il nuovo francobollo dedicato alle Dolomiti Unesco che raffigura il gruppo delle Odle. Il sottosegretario ha parlato anche della situazione dell'emittenza locale a livello nazionale, settore che sta vivendo un periodo difficile. C'è l'idea di un intervento ampio di riforma che riconosca la funzione di interesse pubblico svolta dall'emittenza locale di qualità. E da questo punto di vista la riforma del finanziamento, passando da un'idea di contribuzione che da sempre richiama un po' un'idea di generosa o meno liberalità, ha l'idea di un vero e proprio accordo sulla base di parametri di qualità dell'informazione dell'emittenza locale. Quindi noi dobbiamo uscire dal quadro di incertezze che gli anni scorsi, dallo switch off in poi, sono stati imposti agli operatori per dare regole certe per lo sviluppo delle aziende, ma anche un riconoscimento pubblico attraverso convenzioni chiare sulle risorse che servono all'emittenza locale.